1, 2, 3 Eracom e Eracom Marche inaugurano la nuova sedia del punto di Cagli in via Imbriano-Alessandri 23-25, servizi per i cittadini non solo a livello commerciale ma anche come consulenze. Il gruppo era sempre più vicino alle persone per un aiuto costante e di persona. Da oggi i cittadini di Cagli e zone limitrofe potranno avere un supporto di persona dal personale del gruppo ERA per gas e luce green, supporto nella gestione delle forniture, strumenti di controllo dei consumi, caldaie, clima, scalda acqua, fotovoltaico e mobilità elettrica. Sì, un cambio di passo che ha avuto ERA e che ringraziamo nei suoi vertici per aver preso questa decisione. Per noi è molto importante e soprattutto importante perché viene situato in un punto strategico nel centro storico di Cagli e sappiamo quanto Cagli tenga, questa amministrazione tenga il suo centro storico. Quindi diciamo che le prospettive, quelle che sono le finalità del gruppo ERA si sposano benissimo con il centro storico nostro perché parliamo di sostenibilità e sappiamo quanto ERA sia legata a questo tema e stessa cosa su cui punta tanto la nostra amministrazione per valorizzare in maniera appunto sostenibile, in maniera equa il nostro centro storico. Quindi partendo dalla storia, partendo dal passato, partendo dal rispetto che dobbiamo avere per i luoghi che viviamo, per i nostri abitanti ma parallelamente per cercare di mettere con progetti sostenibili, di mettere nelle possibilità di essere fruita da tanti tanti turisti come già sta avvenendo e quindi di essere appetibile per il rilancio non solo di questi territori, dico sempre, ma veramente posti come i nostri sono interessanti per un rilancio dell'Italia in generale. Anche per l'entroterra, per tutti i borghi che sono, diciamo fanno parte anche dell'Unione Montagna del Catere del Nerone, un passo importante veramente di vicinanza, di servizio a quelle che sono zone a volte un po' dimenticate. Sì, purtroppo le politiche del passato, insomma, sappiamo, hanno penalizzato questi luoghi, questo è inevitabile e quindi insomma vedere che una società così importante come era, punti sui nostri territori, ad avere un servizio efficiente, puntuale e continuo, insomma per noi è un segnale molto importante, specialmente in questi periodi che sapete dove insomma un pochino delle calamità naturali si sono accanite qui da noi, però insomma forti del nostro coraggio, del nostro carattere, forti ma soprattutto credo proprio delle nostre tradizioni, della nostra storia, insomma stiamo reagendo molto bene e io dico sempre come abbiamo bisogno di questi segnali, perché vedere che anche una società così importante investe nei nostri territori, però a noi ci dà una grande fiducia e ci dà ancora un ulteriore sforzo per lottare perché appunto vogliamo assolutamente diventare parte integrante del rilancio dell'Italia. Taglio del nastro oggi a Cagli per questo punto, Eracom cosa porterà in città, quali sono i servizi che adesso i cittadini potranno avere qui in loco? Dunque questo di Cagli è un importante obiettivo ma anche uno dei passi in linea con quello che Eracom e Eracomar che stanno facendo nella provincia di Pesoli in questo caso, cioè ribadire e confermare la propria presenza territoriale con una rete di sportelli moderni, accoglienti e anche efficienti che possano poi garantire ai cittadini delle località anche dell'entroterra una serie di servizi, non solo i servizi informativi dei servizi commerciali ma nel solco di questa nuova tendenza anche la possibilità di informarsi e sviluppare una consapevolezza della possibilità che era da per gestire la transizione energetica. Infatti la transizione energetica è un tema molto trattato in questo periodo, un'attenzione da parte di tutti verso questa necessità. Come vi muovete su questo fronte? Sì, qui diciamo il tema climatico e anche l'esplosione dei prezzi che ha avuto l'energia in generale, quindi anche il gas che si è portato dietro poi una serie di temi anche a livello di inflazione generale, hanno fatto sì che crescesse tanto questa attenzione. Era, non è stata ovviamente a guardare e ha messo nel suo portafoglio di offerte una serie di soluzioni, perché noi le chiamiamo soluzioni, alla transizione energetica, dalla possibilità di ricevere un nostro consulente per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, alla possibilità di avere caldaie a basso consumo, a conta watt e tutti diciamo sistemi e soluzioni che permettono di ridurre il consumo di energia, oltre ovviamente alla possibilità di acquistare energia e gas a prezzi competitivi sul mercato. Un servizio importante qui sul territorio non resta che ricordare in quali giorni siete operativi. Allora, noi siamo operativi a Cagli da tanto tempo, tre giorni a settimana, due mattine e un pomeriggio, quindi lunedì e mercoledì mattina e giovedì pomeriggio, però il nostro obiettivo con l'apertura di questo nuovo punto è quello di ampliare l'orario, ampliare il servizio e essere aperti tutti i giorni. Un'attenzione dunque anche per quelle che sono le zone dell'entroterra, si sta creando una rete proprio in queste aree interne di servizi alla cittadinanza. Sì, era un po' nel suo DNA quello di essere un'azienda vicina al territorio, un'azienda che nasce territoriale. In quest'area in particolare, con questo sportello nuovo di Cagli, noi completiamo il progetto di creare una rete di sportelli che va da Urbagna, Cagli a Fossombrone, che copre le esigenze della Valle del Metauro in maniera completa. Un servizio al territorio, al cittadino, un'attenzione verso un rapporto veramente personale con quelli che sono gli utenti che devono avere a che fare con Energia, ma anche altri servizi. Assolutamente così. Per oggi, con oggi abbiamo coronato un'ulteriore apertura per consentire ai nostri clienti o futuri tali di avere sicuramente una mano tesa per percorrere insieme questo passaggio e questa transizione energetica che indubbiamente sta diventando sempre di più importante e dobbiamo velocizzare quelli che sono effettivamente i comportamenti efficienti da attuare, non solo nelle nostre abitazioni, ma anche a un pubblico di partite IVA. Quindi noi accogliamo sia clienti famiglie che clienti piccole partite IVA. Quindi un supporto a livello di servizi, ma anche un passaggio di conoscenza, di cultura, di quello che può essere il futuro in ambito energetico. Assolutamente così. Per noi è importante. Oggi ERA viene riconosciuta per dei servizi, compresi quelli che sono i servizi di luce e di gas, ma attualmente stiamo percorrendo insieme ai nostri clienti quella che è un un cambiamento, un percorrere la sostenibilità e tutto quello che è il mondo green, che può andare sicuramente dai comportamenti che noi attuiamo tutti i giorni fino alla vendita di prodotti come climatizzatori, fotovoltaici, pannelli fotovoltaici, caldaie, che abbinate ad una buona offerta di luce e di gas consentono effettivamente di fare sia un risparmio in termini economici, ma anche un risparmio in termini di consumo di luce e di gas, quindi di energia elettrica e di gas appunto. Un'attenzione agli utenti anche attraverso delle promozioni, anche ad oggi ci sono delle promozioni soprattutto per chi è di Cagli. Assolutamente così. Per il popolo di Cagli noi prevediamo per tutto il mese di luglio, per tutto il mese di agosto una promozione che possa consentire un approccio per chi non l'avesse già fatto alle offerte di Era Come e Era Con Marche e sicuramente tanti vantaggi anche per l'acquisto di prodotti quale lampadine LED piuttosto che termostati intelligenti, sempre scontati all'interno del pacchetto delle commodity. Quali sono i servizi più richiesti, il pubblico che si presenta qui nei vostri uffici, cosa richiede e per cosa si chiede prevalentemente supporto? Sì, noi abbiamo dei must, quindi soprattutto il target famiglia ci chiede come risparmiare, quali sono le offerte migliori sia per le tariffe di luce che per le tariffe di gas. Ci chiedono anche come fare l'autolettura, se possono venire a consegnarla direttamente presso i nostri sportelli o punti vendita e sicuramente il 2022 ha rappresentato anche un anno di grande incertezza, di grande crescita dei mercati energetici e quindi abbiamo anche vissuto dei momenti in cui i nostri clienti ci vivevano a volte come ancora di salvezza e altre volte come i monelli che avevano tariffe troppo alte. La verità è che il 2022, quindi uno strascico, ce lo portiamo anche nel 2023, ha rappresentato per noi un momento in cui fare ancora di più formazione sui nostri operatori di fronte, proprio per consentire di non essere solo ed esclusivamente degli operatori di gestione, ma anche essere dei veri e propri consulenti energetici per soddisfare quelle che sono le richieste tipiche dei nostri clienti e principalmente la richiesta di voglio risparmiare. Tra l'altro ultimamente purtroppo ci sono anche diverse problematiche per quanto riguarda le truffe tra messaggi e telefonate, quello che può essere un consiglio per prevenire considerando anche che le popolazioni di questi territori non sono più particolarmente giovani e magari non hanno dimestichezza con alcuni canali digitali. Sì, sicuramente è un momento complicato anche per questo motivo, perché vari operatori non hanno più identità, quindi si spacciano un po' per tutti. Per noi avere dei punti fermi come uno sportello in un comune come Cagli rappresenta anche l'ancora di salvezza di cui parlavo prima, quindi venire qui e trovare sempre una persona di riferimento e soprattutto poterla guardare negli occhi e avere affiatamento e conoscenza, quindi anche molta fiducia nella persona che gestisce i nostri sportelli. Questo aiuta. Un servizio per la città, per il territorio, un servizio importante dove le persone potranno veramente avere un supporto. Sì, ringrazio nuovamente ERA per aver tenuto aperto lo sportello da noi e per aver deciso di investire nel nostro territorio, cosicché anche un giovane o una qualsiasi altra persona che voglia creare un qualcosa o cercare delle risposte ha ERA presente qui sul territorio e lo può utilizzare come punto di riferimento. Quindi un servizio importante per quelli che sono gli abitanti, per quelli che sono i turisti, un'attenzione a quelli che sono i servizi per chi qua ci vive o c'è di passaggio. Sì, esattamente, un servizio indispensabile e colgo nuovamente l'occasione per ringraziare e colgo nuovamente.